TITANFALL Aspettiamo, aspettiamo che carica, giustamente deve caricare Qualche secondo, in teoria Tempo che carica Ecco, ok Demetra Pensavo stasso a dire demente, va bene Accedere dai piloti Fuciliere Ce so, ce so So pronto, so pronto Oh, siamo pronti a morire Può uccidere gli altri Dimentico Chi è quello? Chi sono sti cosi? Ah, c'è che ci sono anche dei tipo Ci stanno anche degli NPC Oltre a persone vere Chi è questo? Mezzo che merda Mezzo che merda C'è culo che non sono riuscito a farlo fuori C'ho anche un problema col mouse Cazzo Ok, ok, ok Allora Nick Nick si deve concentrare Nick si deve concentrare Mi fanno la bua Fuck you Madonna Quando uno poi Che cacchio è quello? Mi viene da chiedere Ah, ma quelli Ora comincio Va bene, va bene Comincio a capire Ci sono anche dei personaggi non giocanti In giro Io gli sparo Difatti Questo non era una persona vera Era un personaggio non giocante Ho capito Cazzo che mi sparo Grazie Mi stavo a divertire A far fuori due tici Che te devo dire Cazzo No Dai E direi che l'ho visto Ok, chiamiammi il Titan Bene, Titan è fuori in corso Dove cacchio me lo sta a fatterrà Ciao bello di papà Grazie Thank you very much Ah, mezzo di merda Questo è forte Questo è forte Questo è forse Questo è forse Forsemente forse Cacchio Cavolo Quello era forte Il Titan sarà pronto Quello è cattivo Quello è cattivo Ricevuto Ricopro Adon GONNA Ma GONNA Questo è cattivo Questo è cattivo Questo è cattivo No 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 Ah già C'ho l'occultamento Io me lo dimentico Qui è questo Rambo Rambo Cazzo Quanti so Cazzo Quello è vero Quello è vero Quello è vero Ma quando vuoi Che Qua è pieno di tizi Mizzica Non si capisce niente Qualcuno pensa Che sia uno scontro Sei contro sei In realtà Siamo 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 12 persone Reali Contro Aspetta Va bene Cacchio Qualcuno pensa Che sia una battaglia 12 contro 12 In realtà Ci sono un mucchio Di NPC Quindi è una battaglia Più Bello Titan Andiamo Titan Ci riproviamo Cazzo Il 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 F***** ti! Ma porca miseria se sono f***** AAAAAH! Cristus Andus F***** quando uno vuole ammazzare un cacchio di vizio Ok allora cominciamo a sfruttare le altezze Qua sopra ci potrebbe essere qualcuno Va bene Lo Titan è pronto a lancio chiamalo quando vuoi Eh ultimamente con sto Titan non è che mi ci trovo tanto bene E' finita ragazzi abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso No ti sto inviando delle navicelle a prendervi Guardate i punti di trazione sull'alto Forza Ok 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 allora mo' Arrivo tra un paio di secondi Eeeh Eeeh Trovati al punto di trazione quando arriva la navicella C'è provo, c'è provo, non è facile Mi nascondo un attimo, io arrivo tra sei secondi Ci siamo Ok Ci siamo Ok sei al punto di trazione Sono io scemo Cazzo di sparo Uh Dai E se qua non ce ne andiamo Ok Ok insomma raga è stato uno mezzo schifo Diciamo l'hanno giocato molto bene stavolta Ma va bene dai D'altronde Sono molto forti guarda che razza di livelli che ci stanno Va bene dai va bene va bene va bene lo stesso È stato comunque divertente 3.000 punti esperienza me li sono fatti Ah livello 6 quindi beh almeno qualcosa ce l'ho guadagnato Arma principale del pilota SMG Quindi ho sbloccato SMG Allora andiamo un po' per equipaggiamento piloti Arma principale Dammi Dammi sto SMG Questo ancora non posso sbloccarlo Ok Quindi SMG ce l'ho messo Arma di titan Potrei provare questo Arma di riserva Ma mi tengo questo Abilità tattica c'ho solo occultamento Granata Kit Pacchetto esplosivo Eh Ah Ah Abilità tattica Il pilota Mh 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 Ok 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 Qua se parte Qua se parte Qua se parte Ok Ci siamo Ah Un'altra volta Cacciatore di piloti Vabbè Vabbè ormai Facciamo questo Facciamo questo Che tanto Comunque non è male Magari riesco a dare un po' il meglio Ci spero Vediamo che riusciamo a fare Dai Ok Allora scelgo kit personalizzato Questa volta che ho cambiato un po' le armi Ancora col titan c'ho da fare parecchia pratica A dire il vero Anche se mi ero praticamente dimenticato parecchi tasti Vabbè Val sopra 3 2 1 Ora Ci siamo Banzai Guarda che bel smile che c'è questo Mi ha copiato quasi Questo è un assalto Eliminate i piloti nemici Oh che bella arma Eh qua non ci salgo Eh qua non ci salgo É爾 Si suonato un po' ma Quate Trefaccio il regnetto Si suonata un po' E suonata un po' Eyyyyyyy ham Lo dovevo fare furbo E' divertentissimo ragazzi Si che sono tutti NPC Fuck Dai salto in 30 secondi Dai salto in 30 secondi Dai salto in 30 secondi Questo è duro come il piombo WTF No Pezzo di merda mi ha fottuto Kytan Proprio qua Grazie bello di papà andiamo Stiamo combattendo bene Ma gli MC è leggermente in vantaggio Comunque c'è un sacco di tempo per non tragli che comanda Ta 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 Allarme subiti danni eccessivi Che cazzo ha fatto questo Almeno l'ho fatto fuori direi Il titan sarà pronto ai suoi uniti Cazzo che è questo Ops scusa Il titan sarà pronto ai uniti Cazzo Cazzo Me ne vado al cesso Me ne vado al cesso Alan Outro Univ 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 com'è che mo ah c'è il titan vero dovrei prenderlo va bene tanto so già come vaffi cazzo qua è pericoloso che cazzo dov'è il mio titan dov'è il titan ah è là cazzo grazie prendimi è la fine fuck me l'ha distrutto proprio velocemente dov'è sto pezzo di merda mi ha massacrato ah no basta sempre lui questi comandano raga questi questi titan sono fuori che c***o nooo tu ne le palle ora pure pronto ma sta partita mi sa che è persa comunque cazzo il titan è pronto a lancio chiamalo quando vuoi la situazione non è bella per niente siamo in forza il vantaggio il tempo stritto dov'è il mio che cazzo è il mio titan attivazione modalità difesa dov'è il mio titan eccolo là no è lui sì sì qua sono parca di quella miseria non ti danno neanche il tempo di smuoverti è finita ragazzi l'abbiamo perso oh ma è impossibile è impossibile farli fuori trovati al punto d'entrazione quando arriva alla navicella una parola è ve lo sapevo è impossibile sono tanti titan ecco la navicella sbrigati mi ha sbrigato un c***o madonna mia madonna mia questi costi titan pazzesco veramente e addirittura sono arrivato secondo quindi pensavo un po' questi erano proprio pazzeschi fortissimi fortissimi dai una squadra l'altra squadra era veramente fortissima comunque è stata una bella partita dai sono contento perché vuol dire che comunque ho giocato bene però adesso è arrivato secondo vabbè dai un po' di punti li ho fatti qualcosa l'ho sbloccata ok allora proviamo qualcos'altro oltre soltanto pilota perché giustamente che faccio solo pilota proviamo anche pacchetto varietà che cacchio è sto pacchetto varietà che roba è ah c'è qualcuno che parla qui ah ecco oh non si sente più anzi posso disattivare tutti tanto a me non me ne frega niente ah non me ne frega niente di sentire a loro tanto alla fine ognuno va dove cacchio gli pare e gli piace oh yeah ok ok famo quest'ultima e poi devo concludere il tempo ahimè vola quindi famo questa che piglio prendo sempre il pacchetto personalizzato 1 dai che comunque mi sono trovato abbastanza bene ma questi c'avevano quelli lì avevano dei titan boh ma poi uno due giocavano veramente bene probabilmente anche molto di squadra veramente è stato cioè hanno giocato veramente bene ok com'è che funziona sta cosa questa battaglia sarà vinta dai titan ma sì che l'ultimo impiedi sia il tuo addirittura via quindi proprio uno spratico totale cominciamo proprio con il titan vi ammazziamo tutti vedete questi qui sono in NPC cavolo te tolgono proprio lo scudo come niente fosse dai e dai e dai e dai metti fuori la a testa e quello è bello che sono cazzo se te togli davanti mi fai un favore che vedo qualcosa se te togli davanti dove cacchio è non lo vedo ok uno l'abbiamo eliminato se giochiamo di squadra qualcosa la si può fare cazzo mi hanno fatto un danno pazzesco che ci sono Grazie a tutti. Non riusciamo più a tenergli testa, ci hanno circondati. Cacchio alle spalle! E vai! Questo l'abbiamo fatto fuori. Due titan, due titan. Quello s'avvicina? Cazzo! Merda, no, no, no! C'era qualcuno... Ah, c'era anche uno dentro il cannone. Ok, ci riproviamo un'altra volta, vai. Facciamo l'ultimo. Questa è una battaglia di sopravvivenza, titan. Elimina il nemico senza fare errori. Ah, c'è... Alfa 2, alfa 2, qui in terza posta Abbiamo avvisato un tazzo al nemico Voi lo vedete? Cavolo! Allarme, minacce i punti crea il massacro Attenzione, sei ignorante Cacchio! Devo assolutamente darmi a cacciare vicino a qualcun altro Miizzica, vicino a questo Allarme, un altro titan ha diventato Fuck! Dai, l'ho mancato così come niente fosse È la fine, è la fine, è la fine È la fine, sono circondato Sono circondato, fuck Dai Quindi Controllo il balcone Ricevuto Ah, mantieni Oh yeah Dai, danni vinto in vita Vai e distruggilo Coppiamo il settore Due Tre Cazzo, sono due Cazzo, front persa direttore Va buon raga Devo concludere Spero che questo gameplay ragazzi vi sia piaciuto Anche se sono andato peggio della volta precedente Ma va bene, dai E quindi ragazzi Come sempre Commentate Se vi va Iscrivetevi al canale Se vi va E che altro Se vi va Va bene raga Io vi saluto Ci becchiamo quindi presto in altri gameplay Statemi bene raga Ciao, alla prossima Ciao